Gianna, Gianna, ma dove andiamo a mangiare stasera? All'Italianic Delicatesse. E dove si trova? Sulla Marbru. Ah, Marbru? Che numero civico? Attorno 17. E che cosa sarebbe? Sarebbe una salmeria italiana dove fanno delle ottime focacce con una pizza spettacolare, hanno tutti i prodotti italiani. Vabbè, poi vediamo un po'. Abbiamo assi italianic delicatesse. Ma già ci hai cenato? Sì, sì, ho fatto un panino che era spettacolare, perché è più economico di Massimo, 28 corone. Eh, Massimo invece che? 30 corone. Massimo è un pizzaiolo abbanese, ma non c'è. Marbru, come fa Massimo? Ma che tu vuoi? Io tu metto. Ah, no? Due panini? Ma Massimo è che tu vuoi salsicci. L'altra sera che ti sei preso? Una pizza con i salsicci. E come ti hai detto? Eh, io ho chiesto una pizza con salsiccia e patadine. Adesso hai chiesto due margherite, una con salame, tre salami e una con salsicci. Senza patamina. Senza patamina. Quello che tu vuoi io metto. Quello che tu vuoi io metto. Ho preso i salsicci. Però c'è un piccolo po' di fetti pronunci. Ma la pizza come perlomeno? Ma la pizza è la mozzaella e la mozzaella. Non si ricorda una minaccia? No, non si ricordo, non si. E' un piccolo po' di fettore. Guardate, guardate, guardate. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Giova, scusa, ma dove stiamo? Come puoi notare, siamo finiti a me. Ma no. Ma perché? Non doveva andare all'Italianeschi Delicatessen? Abbiamo scoperto che l'Italianeschi Delicatessen è anche sovrannomeato delle Alpi ed ha affisso uno scoperto della UN. Non ci ne stanno andando, assolutamente, assolutamente. Un po' ci ne andavamo a mangiare una salmeria gioventina e quindi ci abbiamo accontentato di questi potenziali. Ma io ho saputo che tu, quando hai ordinato il tuo famoso panino con il prosciutto, hai parlato anche napoletano, è vero? Sì, sì. Ma non è che ti hanno sputato dentro al panino? No, no, non credo. Ci te lo sospetti? No, non sospetto, era un gioventino bastardo. Non credo fino a quel punto. Vabbè, ragazzi, dovete dire qualcosa voi? No, no. UNMAT. Vabbè. Non sopporto gli ortaggi e le verdure di panino. Cioè, non ti piace chiacchiappare l'anzalatello con le cedrioline. Cioè, non ti piace chiacchiappare l'anzalatello con le cedrioline. Cioè, non ti piace chiacchiappare l'anzalatello con le cedrioline. Cioè, non ti piace chiacchiappare l'anzalatello.